Droga e armi sottoposte a sequestro e un giovane pescarese arrestato. E questo è il bilancio di una duplice operazione condotta dai poliziotti della sezione anti-rapine e della sezione anti-droga della squadra mobile della questura di Pescara insieme ai colleghi della squadra mobile di Chieti. In carcere è finito un 33enne su disposizione del PM della procura di Pescara Silvia Santoro. In un garage il ragazzo di Montesilvano nascondeva 924 grammi di cocaina e 800 grammi di marijuana. In un secondo blitz condotto invece a Pescara nelle case popolari di Via Lago di Capestrano i poliziotti hanno sequestrato un fucile semiautomatico calibro 20 a Cannamozza, risultato poi rubato, e una potente carabina d'aria compressa munita di cannocchiale di precisione. Sulle armi sono in corso accertamenti. Sulle armi noi stiamo lavorando, stiamo ancora aspettando gli esiti della polizia scientifica, speriamo che ci siano impronte oppure tracce di DNA. Sulla droga aspettiamo l'esito pure delle analisi. riteniamo che comunque sia droga di principio attivo elevato e riteniamo quindi per questo che la persona arrestata forse è un mero custode della droga per conto terzi.